La proverbiale ciliegina sulla torta delle ferrovie la mette a Regione Lombardia che dopo aver regalato ai pendolari un'estate di disservizio ha annunciato che dal 1 settembre aumenteranno gli abbonamenti integrati. Io viaggio ovunque in Lombardia e io viaggio ovunque in provincia. Un rincaro di 12 euro approvato dalla Giunta regionale a luglio che ha scatenato, ci verrebbe da dire comprensibilmente, le reazioni dei pendolari. In un periodo di disagio che sembra non trovare mai una tregua, oltre di incertezza sul futuro di Trenord, il rincaro sembra quanto meno fuori luogo. La situazione esasperata che vivono da mesi i pendolari non aveva certo bisogno di ulteriore benzina da versare su un fuoco già bello vivo. L'aumento in ogni caso, fanno sapere dalla Regione, non riguarderà i normali biglietti negli abbonamenti per il solo trasporto subinario.